La campionessa, lo sfidante e via! La campionessa mostra tutto il suo repertorio! La sfidante è basita e ferma! Tira fuori lo smartphone, fa uno shake, controlla il saldo, fa anche una ricarica e vince! Incredibile! Abbiamo una nuova campionessa! Con la nuova app BPM Mobile puoi controllare il saldo con un semplice shake. E fare molto di più in meno tempo, perché è progettata da una banca che ha più di 150 anni di esperienza. E tu, quanto sei veloce?